e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi altro breve video unboxing di cose che mi sono arrivate per appunto il viaggio che sto già facendo quando guardarete questo video e ho preso visto che comunque spesso danno acqua dei guanti invernali da moto adesso andrò a aprirli spero di aver azzeccato la taglia comunque quando guardate questi prodotti cercate sempre di andare a guardare di vedere la scheda della taglia delle taglie prendete la misura ci sono sulle varie misure ad esempio dei guanti dei palmi voi misurate i vostri palmi e dovreste prendere appunto il guanto della misura giusta vediamo un po la misura infatti è corretta è un guanto questo invernale che data la stagione può venire utile dicono anche impermeabile lo proverò comunque sembra davvero di ottima fattura ragazzi c'è io quando vi dico che le cose che provo sono buone non ve lo dico tanto per dire ma anche perché io queste cose le compro non è che mi arrivano gratis io vi dico va che se bellissima cosa io compro queste cose qua perché servono a me sperando che comunque davvero mi mandino qualcosa di gratuito però io vi mostro queste cose che scelgo per utilizzare io questo guanto l'ho acquistato attorno ai 25 euro non so se il prezzo poi varierà con le varie sconti così a dire davvero molto ben imbottito se già da qua sembra davvero bello caldo poi sarà da usare comunque protegge bene anche la tutto il polso e un pezzo d'avambraccio diciamo quindi qui c'è le protezioni delle nocche molto buone sembra di qualità abbastanza buona adesso vediamo subito se è marchiato ce purtroppo ecco l'unica pecca sicuramente è che non è marchiato ci e quindi va beh qua in italia si possono usare ma se andiamo già in francia questa cosa non si può fare cioè si potrebbero usare però se vi fermano e vi controllano guanto sul carro sono cavoli vostri quindi io ve lo consiglio per girare in qua in italia e se dovete andare in francia cambiate guanto o compratene un altro io speravo che avesse che avesse la marchio ma non ce l'ha purtroppo tanti guanti anche se sono di una fattura molto buona non hanno non hanno l'omologazione ce questo non toglie che comunque possono proteggere bene quello che è la la mano ovviamente se hanno l'omologazione ce vuol dire che sono stati testati e hanno sicuramente più validità anche se tanti guanti con la cosa con la con marchio ci sono davvero molto peggio di questi quindi niente ragazzi questo prodottino magari lo testerò durante il viaggio nel caso di acqua li porterò dietro porterò dietro 23 paia di guanti visto che comunque se dovesse andare a piovere avere un possibile cambio di guanti è importante visto che tenere le mani asciutte secondo me è importantissimo soprattutto se poi la temperatura non è alta visto che comunque mani e piedi sono le prime cose che diciamo congelano nel caso di freddo quindi proteggete prima di tutto mani e piedi e anche comunque tutto il resto quindi ragazzi niente questi guanti marca suomi suomi mi sembra anche una marca non sconosciuta però mi suona familiare questa marca quindi niente guanti suomi invernali sono ben imbottiti andrò a provarle sicuramente durante il viaggio spero che possano interessarvi eccoci ragazzi oggi piove forte i guanti guanti qua anche sotto l'acqua stanno dando i suoi frutti visto i cuori sono zutti ma dentro sono asciutti quindi ottimi e grazie ancora alla prossima buon viaggio se farete dei viaggi in questi periodi io penso che concluderò la stagione diciamo con questo giro d'italia visto che ho potuto prendere ferie a ottobre andare diciamo all'estero con questo problema del virus è un po' un po' rischiosa anche anche se comunque adesso come adesso anche in italia non è che non è che è tutta rose e fiori grazie ancora di seguire i miei video grazie per il supporto che comunque mi date sempre anche solo con un like o un commento qua sotto o comunque se non siete iscritti con l'iscrizione comunque grazie ancora e ciao ciao